In sicurezza e degrado sono queste le sensazioni che si percepiscono varcando l'entrata dei palazzoni Aller che si affacciano su Viale Cambonino a Cremona. In alcune palazzine le porte d'ingresso sono aperte, altre semiaperte come in questo caso probabilmente perché gli apri porta non funzionano quelli elettrici e sicuramente la sicurezza non è al massimo perché chiunque può entrare tranquillamente e salire agli appartamenti. Come ci racconta chi qui vive, gli appartamenti giorno e notte sono lasciati in balia di malintenzionati? Abbiamo avuto la porta rotta per un bel po' e l'hanno giustata tardi. In più, devono anche far rimettere una cosa che possiamo chiudere perché è sempre aperta. Ma quando fate le segnalazioni vi rispondono celermente oppure no? No, non tanto. Le cantine, alcune chiuse, alcune aperte, alcune che hanno dentro di tutto di più. C'è uno schifo. E per la perdita, quella lì è un tubo che si vede che era già rotto ma l'aller non è intervenuta subito e dopo un bel po' sono venuti a giustare. E adesso però da quando hanno giustato l'acqua non scorre più come prima. Di qua la porta alcune volte è aperta, alcune volte è chiusa. Quando la tengono aperta rimane aperta tutta notte. E qua entra sempre qualcuno, però l'aller se ne sbatte. Ci mettevano tutto di più agli sporchi, dopo l'aller ci ha fatto pagare a noi la roba che portavano di notte e non è neanche giusto, neanche quello. La situazione non è migliore in via Crespi. Qui a destare preoccupazione sono i balconi da cui si staccano pezzi di cemento e ferro arrugginito. Noi chiamiamo, ma non viene mai nessuno a vedere. Io ho la casa un po' in ordine perché mio marito me l'ha messa a posto lui, altrimenti sarebbe a pezzi. È pericoloso anche per chi passa sotto, potrebbero cadere i calcinacci? Sono caduti dei calcinacci un po'.